75 morti e il bilancio ufficiale è diffuso stamane dall'Agenzia di Stato Mena degli scontri al Cairo tra l'esercito e i manifestanti fedeli al deposto presidente egiziano Mohamed Morsi. I feriti sarebbero 600, i soldati sparano sulla folla alla denuncia dei fratelli musulmani e il governo minaccia il pugno di ferro, metteremo fine ai sit-in in piazza. La Croce si unisce ai giovani che non credono nelle istituzioni politiche perché vedono egoismo e corruzione o che hanno perso la fede nella Chiesa per l'incoerenza dei ministri del Vangelo. Così il Papa al termine della Via Crucis a Rio de Janeiro a cui ha partecipato un milione di ragazzi. Stasera la grande veglia della giornata mondiale della gioventù a Coppa Gabbana. In Italia sono quasi 3 milioni i lavoratori in nero. Ogni anno producono oltre 100 miliardi di pilli irregolare, pari al 6,5% di quello nazionale, per un danno al fisco di quasi 44 miliardi di euro. E' quanto emerge da uno studio della CGA di Mestre riferito al 2011. Quasi la meta del sommerso è concentrato al mezzogiorno. La Calabria è la regione più colpita. Accordo tra ONU e Siria per un'inchiesta volta a verificare l'eventuale uso di armi chimiche da parte delle regime di Assad. Ispettori delle Nazioni Unite potranno condurre indagini sul posto. L'intesa è raggiunta dopo i colloqui a Damasco tra gli inviati speciali del Palazzo di Vetro ed il vice primo ministro siriano. Ennesimo incivile attacco razzista ieri sera nei confronti del ministro Cecil Kieng. Lanciate alcune banane all'indirizzo della titolare dell'integrazione nel corso del suo intervento sul palco della festa del PD di Cervia. Spreco di cibo, schiaffo alla povertà, ha commentato il ministro. Da ieri sera traffico sostenuto ma senza particolari criticità. Fino a lunedì mattina ha prevista circolazione intensa su E45 ai valichi nella zona di Trieste, sulla statale 16 Adriatica e sulla A3 Salerno-Reggio Calabria. Allerta caldo-sahariano, domani il picco massimo di calore secondo i meteorologi. Allerta caldo-sahariano, domani il picco massimo di calore della festa del PD di Cervia.